A Luca Vallese di Albadriatica si inizia con un minuto di accoglimento in memoria del papà di Gianni Castroni, preparatore dei portieri dell'Albadriatica, venuto a mancare in settimana. Il derby con il Martinsicuro parte subito con il vento in poppa in favore dei locali. Calcio di rigore per atterramento ai danni di Lorenzo Emilia e gol di Simone Miani. La squadra di Zotti dopo due sconfitte consecutive vuole assolutamente tornare alla vittoria, va vicina più volte alla seconda rete, soprattutto con Giambè, sfortunata la sua conclusione al diciannovesimo che finisce sul palo. Gran lancio di Nicola Permiani che sfiora di un soffio la doppietta personale, doppietta che arriva al minuto 23, gran centro di Foglia e solito stacco imperioso di Simone Miani. Diciottesima firma stagionale personale per l'attaccante che sta facendo cose grandiose in questa stagione. Non va bene una Giambè oggi che non riesce a segnare, ci prova anche Picone con questa strana ma bellissima conclusione. Il Martinsicuro mette la testa fuori dal guscio con una punizione molto alta di Farinelli, di prima Passamonti per Miani vicino alla tripletta. Si sveglia il Martinsicuro con questa bella azione corale, qui ci potevano essere gli estremi per il calcio di rigore sugli sviluppi dell'azione. La palla finisce sui piedi di Pizzi, risponde Petrini ma al rallenti abbiamo visto come il tocco di braccio di Sacchetti poteva assolutamente essere fischiato. Terzo gol per l'Alba, splendida combinazione in velocità, Miani-Lorenzo Emili con il numero 10 che firma il suo quarto centro personale. Ripresa inizia con un bel tiro, finisce di poco al lato di Pizzi ma l'Alba porta a quattro le sue marcature, lancio di Passamonti. Miani rifinisce ancora una volta per Lorenzo Emili in tuffo, doppietta personale. Alba quattro, Martinsicuro zero, girandola di cambi per entrambe le formazioni. Il debuttante di Renzo ha subito l'opportunità di bagnare la prima presenza in eccellenza con un gol. Sfortunata la sua conclusione di Renzo in versione Assisman ma a Giambè oggi non ne va bene una. Il Martinsicuro meriterebbe quantomeno un gol. Bravissimo Marconi a fermare un lanciatissimo Pizzi. Tanti debuttanti in questa domenica. È gol annullato nel tempo di recupero a Pizzi. Non capiamo bene per quale motivo. Finisce Alba, Adriatica, quattro, Martinsicuro zero. Andiamoci a sentire il mister Di Fabio, l'autore della doppietta, Lorenzo Emili. Anche oggi avevamo parte della squadra giovane, capito, qualche infortunato di troppo. Quindi è stata ancora più giovane questa squadra. Però dai, se la sono lottata, abbiamo commesso degli errori. Vorrei fare una ghiacchierata con il disegnatore degli arbitri. Ma proprio amichevole, capito così, perché mi fanno ride, sinceramente, capito così. Anche incazzare, capito così, perché proprio non hanno un metro di giudizio, di valutazione equo, secondo me. Quindi non per questo, non voglio dire che perdo le partite per questo, assolutamente. No, le perdo perché le merito di perdere, capito così. Però sicuramente se facessero un po' le cose meglio, magari riusciremo a fare qualcosina di più. Allora, dedica per tutte le persone che mi stanno vicine, il mister, la società, la mia famiglia, che comunque mi supportano. Anche e soprattutto il mister che mi dà una mano in mezzo al campo. Non riesco a segnare con una certa regolarità, ma comunque quando lo faccio sono contento, perché ho l'appoggio di tutti i miei compagni che mi sono venuti ad abbracciare. Sono molto contento.